Per quanto riguarda la strada parco, voi auspicate l'intervento della Procura della Repubblica di Pescara, avete già presentato un esposto. Per richiedere alla Procura, dopo l'archiviazione c'è stata qualche mese fa, un intervento alla luce anche degli ultimi sviluppi. Stiamo parlando del fallimento della ditta che avrebbe dovuto fornire il mezzo che sarebbe dovuto transitare sulla strada parco. La ditta è fallita e nonostante questo il Cipe continua a dare soldi per un'opera che adesso non si sa che fine farà. Anelli, avete presentato una mozione in Consiglio Comunale a Montesilvano per l'abbattimento delle barriere architettoniche lungo la strada parco? Assolutamente sì. Noi come Commissione di Vigilanza abbiamo fatto un ciclo di commissioni. Abbiamo constatato la necessità per loro, per i nostri concittadini disabili, di abbattere le barriere architettoniche non solamente sulla strada parco, ma anche sulle intersezioni, quindi sulle arterie stradali che portano la strada parco. Il Comune dice che la responsabilità è dello stesso ente. Noi diciamo insieme all'associazione di categoria che invece la responsabilità di abbattere queste barriere spetti comunque alla GTM. Perché comunque sia è un progetto di rilevanza extracomunale e non possiamo immaginarci di costruire una cattedrale nel deserto senza abbattere quelle che sono le barriere architettoniche per raggiungere questo mezzo di trasporto. Si parla dell'abbattimento delle barriere architettoniche lungo la strada parco, un argomento a voi molto caro. Ormai lo scandalo è arrivato a livello nazionale con la presenza di Striscia Notizia. Chiaramente qua ci troviamo di fronte allo sperpero del denaro pubblico. Non è possibile che in una zona totalmente pianeggiante si costruiscano chilometri di barriere architettoniche. Chiaramente chi le ha costruite deve anche ripagarle, perché sarebbe assurdo ora che richiedessimo nuovamente i soldi ai cittadini per abbattere delle barriere architettoniche costruite, la Repubblica delle Banane davvero.